Ti volevo chiedere che cosa ne pensi dell'addio di De Rossi? Eeeh... Via pallotta! Salve discepoli e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in un video molto speciale in presenza di Federico Marconi. Pensavo io, salve a tutti. Oggi chiederemo ai romani in centro che cosa ne pensano dell'addio di De Rossi che è stato un momento sicuramente tristissimo, è tuttora un momento tristissimo e quindi sentiremo opinioni disparate. Se questa idea vi piace lasciate un bel like e ditecelo ovviamente qui sotto nei commenti, diteci se volete altri video insieme. Io direi che non perderci in chiacchiere, buona visione! Cosa ne pensi sul fatto De Rossi che non gli hanno rinnovato il contratto e quindi automaticamente purtroppo sembra che lo vogliono cacciare via? Guarda, io da quello che mi son formato, mo' non so se è una questione che De Rossi non gli hanno rinnovato il contratto o gli hanno offerto di più come altri giocatori della Roma e allora a lui, di proposito, anche se lo so da quello che ho capito vent'anni che stanno a Roma e magari, dice, offrendo più soldi se ne può andare a un'altra squadra. Sicuramente se gli danno un'offerta più maggiore se ne va. Quindi quello che mi chiedo, a Roma cosa, che rimarrà da Roma? Che rimarrà? Bel? Non me è? Vabbè. Ti vedo con la felpa della Roma, piacere Federico. Daniele. E Daniele, nome perfetto, ti volevo chiedere che cosa ne pensi della De Rossi? Eh, proprio, eh... Cioè non riesci neanche più a parlare per questa cosa, no? Già parole. Ma secondo te perché la società o azienda, come l'hanno chiamata loro, ha preso questa decisione? Cioè penso comunque la sua forma, che non ha convinto quest'anno, però comunque c'è, ci manca. Già, pensa quanto ci mancherà più avanti. Roma-Parma, andrai allo stadio te? Eh, se trovi i biglietti sì. Eh, mi sa che già sono finiti. Eh, no, ma io no, perché mio padre... Ah, c'hai in pici? Sarà più contestazione verso la società o comunque sarà festa, un po' come successe con Totti per l'addio del capitano? Penso più contestazione verso la società. Addirittura? Perché comunque c'è De Rossi, quella che sarà a Roma. Invece loro non volevano, sono tutti incazzati. Stavo cercando di capire pareri su questo addio di De Rossi, anche se non siete romanisti. Ah, sì, sì. Io sono dalla parte opposta, quindi posso dire che far giocare a quello che viene soprannominato Capitan Futuro, l'ultima partita il 26 maggio contro il Parma in casa, non mi pare una scelta molto azzeccata da parte della società. Poi anche con le dichiarazioni che lui ha rilasciato, penso che abbiano totalmente fallito anche questa volta, sinceramente. Proprio nella gestione del giocatore, cioè è una bandiera comunque alla fine della Roma, quindi... Andava gestito sicuramente in un altro modo, anche perché uno come De Rossi nello spogliatoio, io penso faccia sempre bene, anche per i giovani. Quindi penso che anche perché lui voleva continuare, quindi secondo me non c'era nessun problema per il rinnovo del contratto, anche perché lui non mi pare voglia da un aumento. Lo vorreste al Milan, voi? Al Milan non lo so, perché al Milan ce n'è già parecchi, mi sembra. Ma se non al Milan dove può andare De Rossi, secondo lei? All'estero, penso. Stati Uniti, Cina? Tanto si prende un po' di soldini anche le altre. Ci lamentiamo di altre squadre come la Juventus. Io, scusate, da romanista sono simpatizzante a Juventus. Non penso, come si dice sempre, del fatto che dice che rubi sempre. Io penso che la società da Juventus acquista giocatori validi, quello che dovrebbe fare anche la Roma. Si fa presto a cambiare sempre allenatore, ma se si danno via sempre i giocatori, i pochi ma buoni. E rafforzare più magari la difesa, quello che non ce l'ha mai quando gioca a Roma. Sì, quel cazzo? No, io ho il Fulbano Americano. Fulbano Americano? Sì. Però De Rossi lo conosci? De Rossi? De Rossi? Non ce l'ho mai. No, conosci gli Azzori, ciò che c'è la Roma, ciò che c'è l'Inventus, ciò che c'è la Lazio. Quindi tu non conosci De Rossi? Totti? No, non conosci, ma è una cosa che... E secondo te, dopo la Roma, quale sarà il suo percorso? Guarda, secondo me non andare in una squadra italiana, anche se si parla dell'Inter, il Berlino... Io non credo... Eh, non credo... Mi hanno fatto i pari del Fier, eccetera, non penso che succederà mai, però penso che continuerà. Spero per lui che non vada in Cino, negli Stati Uniti, anche perché secondo me non ha senso. Ma a parte là il livello del calcio è molto basso, quindi probabilmente giocherebbe solo lui e quelli che sono esatti. Secondo me due, tre anni ha ancora a buon livello, lui può fare. Segui il calcio, più o meno tu? Ah, no. De Rossi lo conosci? Capitano della Roma? Sai di che sto a parlare, ho capito. Ah, ok, perfetto. Ragazzi, cosa ne pensate dell'addio di De Rossi alla Roma? E... E c'è una certità. Era pure ora. Come era pure ora? Un po' che sei vecchio. Ma come sei vecchio? 36 anni? Capito, gioca a calcio, sì. Sei sicuro? Sì. Tu Totti a 36 anni l'avessi fatto rimanere a Roma? Sì. Eh, però De Rossi non ha fatto... Non ha fatto ricorda di qualità. Da quanti anni è che De Rossi sta alla Roma? Troppo. De Rossi diventerà mai allenatore della Roma? No. C'è abbastanza soldi quando la professione arriva alla vita. E adesso, secondo te, dove va De Rossi? Penso a Los Angeles Galaxy con Ibrahimovic. Però penso si dirà, penso. Anche perché l'ha detto l'altro giorno, quando gliel'hanno chiesto i tifosi, gli ha detto se mi chiedete di non andare in nessuna squadra perché non volete, io smetto di giocare. Secondo te che rappede a queste parole eventualmente oppure no? Dovrà pensarci molto questa cosa. Penso comunque che l'estate ci penserà e poi a settembre deciderà. Roma-Parma invece, che è l'ultima di De Rossi. Tu pensi di andarla a vedere allo stadio? Eh, guarda, io dopo quello che è successo, pure che ho vinto la Coppa Alassio, parte pure già prima, non mi piace più vedere le ortiche perché il calcio è diventata una violenza. I tifosi, tutte queste cose qua. Non tutti, ma la maggioranza è. E io dico, secondo me, non è questione tanto la polizia e quello che riescono a fare. Alle stesse società dovrebbero, a loro spese, i danni che fanno, dovrebbero pagare loro. Quello che stavo dicendo Arati. Eh sì, perché è così, perché è inutile che dicono che è in colpa la polizia, perché per quanto possono fare, se visto quello che gli hanno fatto hanno dato fuoco a una macchina, scherziamo ragazzi, dai, è assurdo. Infatti a proposito di questo, sempre a Roma-Parma, tu pensi che ci sia più festa per l'ultima di De Rossi o più contestazione verso la società? Io penso più in cassature e spero che non ci sia altro casino, perché Roma già è distrutta. De Rossi chiude bene sta cosa e che ci sia una cosa di felicità per tutti. O che vinca o che perda. Comunque mi auguro questo. Il momento della domanda più importante del giorno. Un ospite speciale. Che cosa ne pensi della De Rossi? Senti scusami. Scusami. Ehi, ehi tu, vai. Eh, tu gli ospiti d'Ali. No, no, ma no. Non si fa così. Ma sei da Lazio. Non si fa così. Civiltà. Senti Arati faccio una domanda generale. Tu che stavi quasi cacciato dalla Roma, che è il capitano della Roma, e non gli hanno vieno a 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 vieno. E' vero di chi c'è, a tutta, a fare la stessa scuola. Ovviamente ci saranno i giovani che saranno più apti a fare queste cose. Tu sei sempre da 35 anni, dobbiamo cercheresti un progetto in cui vogliono in cui vincere o guadagnare in barco? Beh, un progetto in cui vincere sarebbe interessato, però 35 anni anche guadagnare. Ah, che se diciamo un po' meno, stare dalla squadra, il capitano della Roma è prestigioso. Personalmente sarei stato nella squadra. Io ho sentito in questi giorni anche un parallelismo con quello che era successo con Totti Lì comunque era un giocatore di 40 anni che anche fisicamente faceva più fatica Questo De Rossi al di là degli infortuni che ci sono stati quest'anno non mi sembrava male Eh ma con De Rossi non potevano permettersi di fare una cosa simile Con Rossi magari in qualche maniera vanno sbagliati Cosa pensi dell'addio di De Rossi? Cioè De Rossi via dalla Roma? Lazio No ma vuole Lazio? No, no, fortunatamente no De Rossi dove andrà? Andrea Andri andrà Non lo so Prossima squadra Te lo dico io Caltanissetta Caltanissetta È una questione di stato Esatto De Rossi è andato via dalla Roma Lo sapete sì Io ci vado dalla Pertiro Curio io ci vado Grande E che ne pensi? È un telefono questo Eh no no ma perché stai così? È perché mi trovano Allora La ricerca per scuola No vabbè se sta imbarazzando Cioè qual è stato il motivo? Eh la vecchiaio No la vecchiaio La vecchiaio Te lo dico io Lo sapevo Qua bisogna andare a parare Vai ma para qua Il problema è pallotta Eh Via pallotta Via pallotta Via pallotta Via pallotta Questo video Vi si è leccato Ringrazio Federico Marconi Per essere stato in mia compagnia oggi Grazie a te Buon verone Grazie per avermi invitato E grazie a tutti quelli che ci hanno dato un'opinione Su questo momento tristissimo Ti ricordo anche che in descrizione c'è il mio canale È perché è giusto anche dirlo È giustissimo Come a Cesare quel che è di Armando Iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare aggiornato su ogni video che carico Non ti scordare mai di seguirmi su Instagram al profilo Federico Antoine e Trattino basso Fede Marconi Trattino basso Noi ci vediamo in un prossimo video Bella per voi discepoli E mi raccomando Never give up Fate bravi